grazie Simona buongiorno a tutti cerco di essere velocissima ma ci tenevamo noi abbiamo fatto qui un evento molto bello il verde immagino giusto? Perfetto abbiamo fatto qui un evento a giugno in questa location straordinaria noi come Madeventi e come Fiera Milano siamo abbastanza emozionati di avervi in presenza perché per noi è stato come dire un momento come tanti ma siamo stati gli ultimi a essere riaperti e per noi la presenza e la fisicità è davvero la base del nostro lavoro abbiamo voluto fortemente questa decima edizione Madesta di solito nel mese di marzo ma il codice a tecco era chiuso, si è riaperto solo a luglio e abbiamo chiesto anche al nostro management di crederci perché le aziende ce lo chiedevano gli espositori ce lo chiedevano e noi con grandissima gioia a novembre faremo questa decima edizione vi lascio a qualche immagine grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ecco questa così è una prima preview quello che ci interessa raccontarvi ancora brevissimamente è che noi insieme alla manifestazione tipica ma con l'esposizione accompagniamo sempre con una serie di eventi molto strutturati prima di tutto insieme a platform che ci accompagna in modo straordinario e ci dà davvero un grosso aiuto ma con altri eventi che vanno così dal dal mondo dell'architettura a quello delle costruzioni a tutti i temi poi tecnici ma anche normativi che possono interessare in modo molto trasversale tutta la parte del vostro mondo e dell'edilizia in generale abbiamo già fissato quattro importantissimi eventi adesso ve li faremo vedere l'ultima cosa che vi lascio volevo solo dirvi che in sala insieme a me che sono l'exhibition manager c'è Francesca Benvenuti e Valentina Sciusco che sono della nostra staff commerciale per qualsiasi informazione o per qualsiasi altra così notizia che potrebbe aiutarvi quindi vi aspettiamo dal 22 al 25 di novembre e siete tutti poi invitati special guest grazie anche a questo evento grazie grazie ecco questi sono i nostri quattro saloni e credo che ci sia una ecco partita grazie grazie grazie